Hello ragazzi salve a tutti benvenuti con questa nuova parte su minecraft la scorsa volta siamo riusciti a completare la pescheria ovvero abbiamo creato tutta una roba per contenere il pesce che andremo a pescare poi dalla farm della pesca in modo che vada direttamente a cucinarsi anche ci abbiamo fatto anche la bellissima canna pesca di sopra questa non sembra una rete però è una rete in futuro andremo a migliorarla perché comunque qua va messa tutta una parete di ceste in modo da dividersi bene il pesce e tutte le robe che non servono anche ma diciamo che non è essenziale c'era più una cosa per estetica una cosa per gestire meglio il mondo e tutto invece quello che andremo a fare oggi sarà una farm d'oro avevo detto che avrei fatto una farm d'oro prima o poi oggi finalmente andiamo a farla ed è una farm enorme per cui mi serviranno veramente tanti blocchi io adesso prendo un bel po' di scatole di shulker perché dobbiamo riempirle tutte vi dico solo che praticamente il tizio ha fatto una lista di oggetti che servono e servono 5700 blocchi di costruzione forse non va forse allora potremmo provare a partire con una farm più piccolina cioè magari riusciamo ad usare meno blocchi per adesso poi quando ci avrò tempo più avanti ne farò ne farò anche di più partiamo col prendere 56 incudini cioè questi che si fanno col ferro fortuna che il ferro ce l'ho anzi dovrei anche averlo messo a cuocere quindi dovremmo averne anche un po' qua dentro il tizio tra l'altro dice che il ferro se non volete usarlo cioè potete anche non usarlo e potete sostituirlo con dei blocchi normali poi qua dice che ci servono 96 iron block e 24 zucche penso per il semplice fatto che praticamente dobbiamo costruire dei golem che vi dirò adesso io prendo sulla roba ma non penso che lo costruiremo cioè non penso che li faremo subito i golem perché la mia idea è quella di fare la farm a più mandato non ce la faccio di sicuro tutt'oggi oggi farò semplicemente un pezzetto poi il resto lo finiamo comunque poi ci servono 96 minecart come si fanno i minecart? aspetta un attimo oh mio dio aspetta un attimo allora ci saranno 4 hopper e 4 minecart hopper che però non li abbiamo ne abbiamo due vabbè abbiamo due minecart cioè come faccio a farne 90 ma perché? cioè vi dirò che non lo so io cioè l'ho vista come farm ho visto che funziona si può fare quindi la faremo servono 12 scale e ho letto le trapdoor quante trapdoor? servono 27 trapdoor e 12 scalette quindi prendiamo 12 di queste e via per fortuna ho la farm beh insomma ho la fan di ferro sì ma qua qua tocca a tarci un attimo fk perché sennò non c'è ben più la roba ok non avevo assolutamente visto che servivano tutti quegli oggetti quindi cioè io l'ho vista lì e ho detto vabbè sì è infattibile sicuramente non riusciremo a finirlo quanti ne sono? 96? ok poi qui lui dice 4 tappeti e 12 nintags i tappeti no tanto è indifferente penso quindi possiamo fare di lana com'è che si fanno i tappeti? se non sbaglio ok con due ah no ma me ne da un bordello va bene e poi le nintag le nintag noi ce le abbiamo le nintag non sono un problema il problema è che queste nintag vanno date penso a dei mob ai pigmen appunto per non farli desponare quindi dato che dobbiamo dare anche il nome facciamo che mi dite 12 nomi se mi dite voi 12 nomi poi tanto adesso non le facciamo però quando poi faremo la parte dei nintag mi date mi date i nick cioè li metto i nomi che ne avete detto un'altra cosa importante è che mi servono 2457 blocchi di vetro beh dai ce l'abbiamo mi servono dei pistoni che possiamo prendere facciamo 4 pistoni questi sono tutti oggetti che praticamente vanno usati una sola volta poi vanno smontati tra l'altro non li ho prese ma mi servono anche delle rail che ne prendiamo lui dice rails quindi ne prendiamo un tot ne servirebbero 4 per il robot però ne prendiamo un po' perché ne saranno anche altre lui dice blocco di costruzione e power source quindi una fonte di energia prendiamo le torce io direi che ci siamo e possiamo andare per far funzionare al meglio questa farm dobbiamo andare sopra dobbiamo andare sul tetto il problema è che non mi ricordo dove lo fa è lì? non mi ricordo dove l'ho messo quindi in realtà dovremmo fare tipo una scala che mi dica ehi guarda è qui sopra la tua testa il buco l'hai fatto qua è tutto uguale guarda qua guarda che bellezza il casino che avevo fatto per creare sto buco e possiamo iniziare a lavorarlo facciamo un pelino più lontano non voglio farlo direttamente se apre il buco magari anche qua va bene tanto ragazzi vi dico già da subito che andremo in alto di ben 238 blocchi io già non li sto più contando vabbè c'avevo 38 blocchi di terra se guardate bene nelle coordinate la y che è l'altezza deve arrivare a 238 olè ok una volta arrivate a 238 mettete un altro blocco e lavoriamo qua allora dobbiamo fare una costruzione del genere dalla scala lì ci espandiamo con il vetro di tre blocchi quindi facciamo tre tre e tre ok questo è già il terzo praticamente perché dovete contare che uno c'ha uno c'ha l'ingresso anzi ho sbagliato perché andrebbe fatto così tre tre e tre e questo non ci dovrebbe essere ok allora così ci siamo in teoria poi tutta questa roba va fatta con una scala io non le ho portate vanno messe delle scale per tutta la torre fino a salire ora lui va a mettere i quattro hopper ai lati io io seguo quello che fa lui poi questo meccanismo non l'ho capito ora fa una cosa strana perché praticamente riesce a mettere un blocco questo non lo capisco praticamente allora prendete i minecart hopper prendete i pistoni e le torce o comunque un segnale di redstone che può essere anche un blocco di redstone quindi mettete il il coso qua sopra mettete un hopper togliete il coso di redstone il il robo sotto va a mettere un blocco dentro col pistone cioè scusa fammi capire come cacchio fa eh in teoria attivando il pistone bello bellissimo oh oh ok cioè sto cosa si è glitchato si è glitchato poi lo va a chiudere con i blocchi di di glass ok funziona buono cioè per ora lo sto facendo uguale a lui quindi mi sta riuscendo non so se poi funzionerà alla fine spero di sì perché altrimenti vengo su con la tnt e faccio saltare perare tutto io ve lo dico questi blocchi direi che non ci servono più ok e e niente dobbiamo fare questo lavoro su anche gli altri gli altri tre angoli ok allora ho fatto già tutto come vedete praticamente ho tolto il vetro sotto le anvil questo per il semplice fatto che poi le anvil andranno a gestire tutto il sistema di disinistamento quindi da lì sotto poi partirà una base diciamo ci sarà una base dove andremo a gestire tutto tutto l'oro e in teoria droppano vabbè droppano la carne che quella possiamo tipo buttarla direttamente l'oro lo mettiamo nelle ceste e poi dovrebbero doppare anche le spade d'oro che vanno sciolte quindi praticamente cosa faremo? un sistema di smistamento che prende le spade e le mette in una smeltery che non so se c'è qua però cioè in teoria tipo forse la fornace normale che fa sciogliere la spada e poi va a mettere le pepite o l'oro non so neanche cosa esce però direttamente nelle ceste ma quello più avanti adesso occupiamoci di sta roba perché da qua adesso andiamo a prendere qua le botole e ne piazziamo qui una allora vi dico già subito vedete che sono salito siamo al 2,41 perché appunto ho messo i i blocchi alla pari del minecart quindi sono due blocchi più in alto siamo all'altezza 2,41 poi lui mette le slab che sapete che mi sa che non le ho prese non le ho prese bene dunque dove eravamo eravamo rimasti alle slab le slab le mettiamo esattamente un blocco dopo questo perché il compito delle slab è quello di far passare l'exp perché questa sarà anche una farm di xp non solo d'oro ma non far passare i baby pigmen perché ci dovrebbero essere anche i baby pigmen che poi vengono a rompere quindi quelli non li vogliamo quelli possono stare a casa loro poi 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 lui mette delle rail che noi abbiamo tolto prima ma lui le mette qui sopra però vedo ah si ok rivolte verso qua queste vengono ribaltate perché in teoria funziona che seguono una coordinata cioè mi sa che tipo seguono il nord dove è finita? qui sotto credo seguono il nord quindi dovete semplicemente spostarle voi a mano poi quelle ok allora adesso inizia la parte dispendiosa perché vi serviranno i gli anvil vi ho già spiegato gli anvil non sono necessari gli anvil semplicemente aumentano la produttività della farm allora qua lui fa 1,2 e 3 di vetro dietro che servirà da chiusura poi fa 1 ho sbagliato ti devo mettere da questa parte? oh ok dovete metterle da dove le guardate quindi fate 1,2 e 3 ok questo è da tutte le parti ok una volta fatte queste torrette di anvil a noi servirebbero i minecart che però non abbiamo ancora tutti quanti perché ce ne saranno veramente tanti e adesso che guardo come sta lavorando ho capito perché cioè almeno non ho capito perché ne mette 24 però ho capito dove li ha usati 24 vi faccio vedere come li usa lui praticamente fa un minecart lo butta lì poi semplicemente gli altri li mette dentro cioè non fa vedere ne mette 1 poi fa 2 è sparito 5 oh mio di li mette tutti dentro 6 7 8 9 10 e 24 ok ne mette 24 tutti nello stesso blocco non so cioè è possibile a quanto pare però non so come e non so per quale motivo però se non sbaglio 24 era tipo il numero massimo di mob che potevano stare dentro un blocco poi tutti gli altri superflui mob animali e tutto entità tutto il resto poi veniva ucciso cioè quello che arrivava moriva 24 pigmen arrivano e si incastrano in ogni carrello quindi sono 24 carrelli 24 pigmen poi tutti quelli nuovi che arrivano muoiono e lasciano il drop quindi io io dove eravamo rimasti cari amici iniziamo a mettere le traptor per quanto riguarda poi minecart li metteremo più avanti tranquilli purtroppo attualmente non li ho quindi non posso metterli allora facciamo 1 2 3 4 5 e no forse no facciamo anche 6 perché attaccati a queste ci vanno messi queste le bottole 1 2 3 4 5 e 6 e si possono chiudere tutte volendo si può recuperare il vetro cioè quel vetro lì non ci serve in teoria quindi fatemi vedere se riesco a fare una cosa intanto qua possiamo chiudere il passaggio se riuscissi a farlo senza ammazzare cioè io io vorrei chiuderlo ok ok anche questo l'abbiamo fatto poi lui va a mettere oh mio dio ma ho sbagliato ho sbagliato completamente a mettere le botole andavano messe qui lunghi perché l'ho fatto sopra gli slab ci vanno i tappetini ok ci siamo abbiamo tutto calmi già che ci siamo ho visto che lui lo fa mettiamo una slab cioè uno slab una trapdoor lì sopra questa in teoria dovrebbe fungere da nostro punto di 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 fk come si dice in teoria potete fare una cosa del genere mettete due blocchi arrivate a pari praticamente e sopra questi cosi ci mettete gli slab non so perché lui lo fa quindi fatelo anche voi scusi cioè chi sono io per giudicare quello che fa lui nessuno una volta arrivati qua in teoria dovete arrivare alla pari con questo quindi potete riempire di vetro tutto il posto uno due e tre poi vanno riempiti di di e in villa anche qua eh quindi le portate alla pari ok ora inizia la parte molto più complicata ovvero l'esterno cioè qua in teoria abbiamo finito per il semplice fatto che poi vabbè in modo dobbiamo arrivare qua sopra perché poi qua ci saranno tutti i mob questa sarà diciamo la nostra area da lancio perché poi dobbiamo tirarli mob quindi tirarli frecce tirarli qualsiasi cosa dovete venire qua sopra potete usare delle scale ma non si possono mettere sul vetro o semplicemente io farò boh dei blocchi di terra o vedrò cosa fare in ogni caso ora dobbiamo andare a lavorare all'esterno vedete quel blocco di vetro lì quel blocco di vetro lì va ripetuto per tutto il contorno andiamo a lavorare qua mi raccomando dovete praticamente avete come riferimento questi blocchi di scale olè fa giro giro tondo poi qua davanti li mettete tre blocchi ah tra l'altro non vi ho spiegato perché si usano le anvil poi l'ha detto ma ho capito praticamente se voi mettete dei blocchi normali dei blocchi chiusi come potrebbe essere legno o qualsiasi cosa qui ci passerà un solo mob alla volta invece in questo modo con la doppia anvil lo spazio aumenta perché non è un blocco intero ma è tipo un blocco meno pochissimo però questo pochissimo praticamente allarga lo spazio da un blocco a un blocco e 75 mi pare di aver capito in questo modo ci passano due mob quindi praticamente cosa succede? succede che c'è più influsso più mob più farm più oro let's go ok scusate devo trovare un modo per entrare perché se no qua io faccio un disastro ci siamo ora inizia la parte veramente brutta la parte che non riuscirò a finire perché mi manca completamente la roba io vedete sono ridotto con tre stack di vetro e me ne servono non so quante perché adesso utilizzeremo praticamente la stack i blocchi di vetro dobbiamo fare la piattaforma esterna adesso quella dove sponerà poi tutta la roba useremo i blocchi di vetro perché fa evitare che sponino i mob appunto cioè sul vetro non sponano quindi useremo tutti i blocchi di vetro per evitare che sponino e poi tutti tutti i blocchi invece non di vetro qualsiasi blocco poi vediamo comunque blocchi da costruzione per farli sponare allora le scale io le ho prese adesso le andiamo a mettere perché vanno messe qua davanti i nemici arrivano salgono qua sopra si inceppano praticamente cioè arrivano a frotte poi dopo da questo blocco contando questo blocco dovete uscire di 20 blocchi quindi fate 1, 2, 3, 4, 19 e 20 e poi uscite di 8 quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gli ultimi 8 con i blocchi che poi volete usare io adesso ci ho messo questi perché c'ho solo questi ma poi vediamo e questa cosa va ripetuta per i 4 angoli quindi per tutte e 4 le cose va ripetuta questa cosa 20 blocchi di vetro 8 normali e poi va chiuso tutto cioè va fatto proprio un pavimento adesso vedrò come come fare cioè dovrò fare il vetro e tutto quindi dovrò anche andare a prendere la sabbia devo prendere i blocchi della costruzione che penso che potremo usare la cobblestone che ce l'abbiamo o qualsiasi blocco che possiamo utilizzare che ne abbiamo a pacchi mi farò tutta la mia base e poi ci rivediamo magari magari la prossima volta perché adesso io sono a un'ora e mezza ragazzi se l'abbiamo fatta o almeno sono riuscito a completare il primo piano come vedete ho fatto tutto tutto il giro si è bloccato il gioco non è propriamente un cerchio perfetto cioè almeno un cerchio di queste dimensioni non ha questo posto qua tutto zigzagato perché se lo vediamo un po' più dall'alto questo qua praticamente taglia taglia un bel po' questo perché qui all'esterno andranno messi i pigmen o i golem adesso non mi ricordo cosa ci va messo ci va messo qualcosa ma di sicuro non lo farò adesso per ora voglio terminare qua perché abbiamo fatto abbastanza ci ho messo veramente tanto non so se la parte col vetro è finita io spero di sì perché il vetro l'ho finito cioè dovrei andare a farmare ancora sabbia andrebbe alzato tipo andrebbero fatti tre piani di questa cosa o forse anche di più non lo so comunque tre piani solo di netherrack cioè il pezzo qua del vetro non serve sopra ma appunto lo vediamo la prossima volta perché adesso voglio terminare qua ho bisogno di farmare altri materiali che mi serviranno poi per costruire appunto le altre zone per il momento io ragazzi termino qual'episodio noi ci vediamo alla prossima parte sempre su minecraft qui da l'anno dolf è tutto ciao a tutti